Belle ragazzi, sono BeWolfers e sono tornate le mini recensioni. Oggi parleremo di Hellpoint. Il titolo del giorno è un Soulstrike ad ambientazione horror fantascientifica che permetterà ai sui players di esplorare la misteriosa Irid Novo, una stazione spaziale abbandonata che pare nascondere diversi segreti. In questo titolo vestiremo i panni di una misteriosa creatura la cui stessa esistenza è votata all'esplorazione di Irid Novo. Il nostro creatore infatti ci spingerà ad indagare su quanto accaduto attraverso la tipica narrazione del genere, fatta di frammenti di lore da raccogliere in giro per il mondo e ricucire agli eventi che ci vedranno protagonisti. Hellpoint si farà giocare come il più classico dei Soulstrike, aspettiamoci quindi una difficoltà complessiva piuttosto elevata rispetto alla media ed esacerbata dalla nostra condizione iniziale di esseri privi di armatura, abilità o armi degne di nota. Esplorando Irid Novo avremo accesso ad equipaggiamenti sempre più potenti, inoltre abbattere i nemici ci permetterà di potenziare le statistiche del nostro personaggio sfruttando le brecce, l'alter ego dei falò di Dark souliana memoria che fungeranno anche da salvataggio di gioco. Esteticamente parlando il titolo offre una grafica ben realizzata, sebbene non faccia certo urlare al miracolo, ma soprattutto un'atmosfera brillante per come riesce a far calare nel gioco il player di turno. Il comparto sonoro supporta la sensazione di immersione in maniera adeguata e soddisfacente, sebbene anche in questo caso non vivremo esperienze da raccontare in giro. Igg in proprio posto è quello che ci si aspetta da un titolo di questa tipologia, quindi potremo giocare ad un gioco divertente ed appassionante ma che sa anche essere punitivo e frustrante. Ottima l'idea di far ruotare la stazione intorno ad un buco nero che andrà ad alterare la sfida proposta, ad esempio cambiando numero e tipologia di nemici e che quindi sarà un elemento da considerare prima di lanciarsi all'esplorazione di un'area sconosciuta. Da apprezzare anche il livello di confidenza nell'uso delle armi, che ci permetterà di sbloccare nell'abilità unica una volta massimizzato e che si andrà ad affiancare ad un più classico sistema di crafting, comunque presente e ben realizzato. Di negativo devo segnare una telecamera davvero fastidiosa e che spesso rappresenterà il vero nemico da combattere, soprattutto negli spazi più stretti o quando perderemo il lock sull'avversario di turno a causa di un involontario spostamento di inquadratura. Ad essere pignoli occorre anche ribadire che talvolta si ha l'impressione di hitbox non esattamente fedelissime. Inoltre le boss fight sono un filo ripetitivo e anonime in più di quello che ci si aspetterebbe considerando il buon grado di cura che emerge in tutti gli altri aspetti del titolo. Tellpoint è un titolo che colpisce per l'atmosfera e le sensazioni provate, offre un'esplorazione piacevole e un'esperienza di gioco appagante anche alla luce delle sue negatività. Pur non essendo esente da difetti infatti, anche gravi come la citata telecamera ballerina, il titolo sviluppato da ragazze della Cradle Games e proposto su stima a 29,99€ è certamente un gioco che mi sento di consigliare a qualsiasi appassionato del genere. Non mi rimane altro a dire su questo titolo, spero che il video vi sia piaciuto e se così lasciate un like, commentate e condividete, ma soprattutto iscrivetevi per non perdervi nuovi contenuti. Grazie e alla prossima, ciao!